Via libera dalla Giunta Provinciale che autorizza il Presidente Franco Antoci a proporre ricorsa al TAR contro l'arrevoca del decreto dell'Assessore regionale e alle autonomie locali di indire i comizi elettorari per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale in programma il prossimo 6-7 maggio. Una decisione, quella della Giunta Provinciale, che fa seguito alla mozione votata sabato scorso dal Consiglio Provinciale che chiedeva, come è nota allo stesso Antoci, di assumere ogni iniziativa possibile e utile per difendere l'autonomia della Provincia e il diritto dei cittadini ragusani ad essere amministrati da organi eletti democraticamente. La scelta di fare ricorsa al TAR nasce dunque da una scelta condivisa tra Giunta e Consiglio Provinciale e anche in sede nazionale dall'UPI, Unione Provincia Italiana e con le altre province in scadenza a maggio è destinata al commissariamento, quindi un atto dovuto in difesa dei diritti dei cittadini della Costituzione, nel caso specifico c'è il profilo costituzionale legato al diritto di voto, ma i cittadini col commissariamento si vedono in questo caso private di questo esercizio democratico.